No, stavo dicendo, ho sentito qualcuno che ha detto Doge, mi piace di più perché allora non c'era Roma, chiaro no? Posso dirlo, benvenuti in Veneto, nella terra della Lega, benvenuti in Veneto dove andiamo orgogliosi di votare Lega Nord. E mi tolgo anche una soddisfazione, siccome io sono uno di quelli che ha sofferto di più in questi anni, perché poi sapete il governatore ha a che fare con i sindaci e se i sindaci sono di una grande città, se ce li hai contro, ti rompono le palle o riempiono la loro città di marocchini e gente che non fa un cazzo tutto il giorno, dici ma com'è possibile essere in Veneto? E allora volevo togliermi la soddisfazione e dire, buongiorno signor sindaco, dov'è Bitonci? Lo dico perché è stata la realizzazione di un sogno per tutti noi veneti, pensare di non poter più frequentare una stazione ferroviaria, non perché non ti vada bene il servizio di trasporto pubblico, ma perché se vai lì non sai se esci vivo e se hai te questi problemi immagina la signora, l'anziana, la donna che magari ci va andare ad ora e anche non tanto raccomandabile, uno dice ma sarà mica possibile che il Veneto abbia anche ancora isole come queste? E spugnata anche l'ultima roccaforte del comunismo in Veneto. Beh guardate, io penso di darvi già una buona notizia che il mio intervento durerà poco, ma due robe ve le voglio dire. Innanzitutto che questa regione è governata dalla Lega e io in teoria non dovrei neanche essere qua a dirlo fino in fondo, perché il 4 giugno hanno restato 35 persone, 30, 35 persone, no ma vi spiego, nonostante tutto il casino che c'è stato, nonostante il fatto che non ci sia neanche l'apparvenza di un leghista in questa inchiesta, nonostante abbiano avuto difficoltà con il loro sindaco di Venezia, non entriamo nel merito, nonostante abbiano avuto difficoltà con il loro ex capogruppo in regione, il PD, l'unica roba, il PD di Renzi, l'unica roba che ha saputo dire, Zaia si deve dimettere. Allora se l'intento programmatico di queste persone che sono senza vergogna, del resto, cari signori, non parlare una lingua straniera o parlarla male non è una colpa, però se tu sei talmente senza vergogna che vai a parlarla in quella maniera davanti a personaggi che sono rappresentativi a livello mondiale, vuol dire che tutto è possibile, che tutto è ammissibile e questo è il biglietto da vista, magari a qualcuno sembra una pochezza, ma se tu arrivi a quei livelli vuol dire che non hai più rispetto di nulla. Allora guardate, io penso, ma lo dico da leghista ultra decennale, come si può dire, avevo 20 anni, 22, non so neanche da quanti anni, io ho le tessere un po' dappertutto in giro per casa, bisognerà che mi organizzo e le metto anche in ordine, pensavo di farci un quadretto, metterlo all'ingresso. Io penso che noi oggi abbiamo le condizioni della tempesta perfetta, se noi leghisti avessimo dovuto 10, 15, 20 anni fa, quando nasceva la Lega, disegnare un'occasione, una situazione a noi ottimale per portare il verbo della Lega tra la gente e renderlo operativo, non avremmo disegnato una situazione così perfetta. Abbiamo molte amministrazioni, abbiamo dei governatori, abbiamo un governo che oggi risulta essere un ottimo interlocutore. Non dimentichiamoci, lo diceva prima Roberto Maroni, che questo è il governo di Mare Nostrum, non dimentichiamoci che questo è uno dei temi sui quali noi abbiamo molto investito. Perché guardate, al governatore del Veneto hanno chiesto cosa farà con gli immigrati, ho detto noi abbiamo già dato, quindi da noi non se ne parla proprio, questo deve essere poco ma sicuro. Ma è altrettanto vero, ma è altrettanto vero, ed ha ragione Matteo e va sostenuto fino in fondo, che la battaglia vera è sull'Europa su questa partita, perché noi siamo davanti, siamo appena usciti da un'elezione europea, siamo davanti a un'Europa che si lava le mani davanti alle politiche dell'immigrazione, siamo davanti a un'Europa che pensa che Lampedusa sia il confine d'Italia, un'isola siciliana e non il confine d'Europa, siamo davanti a un'Europa che comunque ci ha lasciati soli. E davanti a un governo che in Europa va a fare solo una cosa, farsi dare i compiti per casa. Perché quando si tratta di andare lì a battere i pugni, e posso dire che l'ho dimostrato dal Ministro che se batti i pugni o si spaccano le scrivanie o ti fanno le leggi, quando si tratta di andare lì a battere i pugni e dire basta, nessuno lo fa. L'unica preoccupazione di questo governo in questo momento con l'Europa è quello di portarsi a casa una poltrona per un rappresentante della sinistra italiana. Allora, io penso che in un momento nel quale si parla molto di riforme, e ringrazio Roberto Calderoli per quello che ha fatto, perché è più facile liquidare questa partita, ma non va bene la riforma. Roberto è stato nostro presidio durante tutta la partita della riforma e la modifica del titolo quinto. Ovvio è che se c'è qualcosa di buono in questa riforma è grazie a lui, grazie al nostro partito. Vorrei ricordarvi che in questa riforma si citano i costi standard, che è la vera partita sulla quale noi vogliamo discutere, l'abbiamo inserita nella sanità, però è altrettanto vero che così non ci basta. Questa riforma, lo ricordava anche Roberto Maroni prima, rintroduce il concetto di supremazia statale, cioè dice che alla fin fine voi avete delle competenze da gestire, però se le gestite male o a noi non piace come le gestite, ve le togliamo. Quindi sì, c'è un neocentralismo nazionale che si va a ripristinare, c'è una condizione sulla quale noi non possiamo dare il nostro assenso. In un momento nel quale, io vi parlo da una regione, che insomma qualche fermento di autonomia c'è, il 90%, dice l'84% dei Veneti si dichiara favorevole per l'indipendenza o l'autonomia. Qualcuno ci veniva a fare le lezioni sulla Catalunia, noi possiamo dire che siamo più avanti della Catalunia, perché la Catalunia ancora non ha fatto la sua legge per indire il referendum, il Veneto ce l'ha, ha una legge per l'indizione del referendum, però è altrettanto vero, e lo dobbiamo fare dalle liste, quali persone serie che siamo, che dobbiamo dire ai cittadini che non è che ci puoi infarcire di demagogia e populismo a questa partita dell'indipendenza. L'indipendenza, se è vero che è una cosa seria, la si fa con serietà. L'indipendenza prevede una legge di convocazione del referendum, che noi abbiamo approvato, la legge prevede che qualcuno, se non gli piace questa legge, la impugnerà e se verrà impugnata da qualcuno noi la difenderemo, la legge prevede che ci sia un budget, 14 milioni di euro, che è il costo reale per il referendum, che deve essere un referendum ufficiale, con gli scrutatori in maniera ufficiale all'interno dei plessi scolastici, come si fa ogni volta, semplicemente per audire i veneti circa l'indipendenza. E guardate, noi ne abbiamo un po' le palle piene, lasciamo ogni anno 21 miliardi di tasse a Roma e questi nestofanti, questi cialtroni, le nostre tasse, non è che li investono per recuperare l'occupazione, un ragazzo su due al sud, parliamo di sud, un ragazzo su due al sud non lavora, non è che li investono per fare in modo di creare nuova occupazione, rilanciare il turismo al sud, vengono letteralmente sprecati. Allora noi, i nostri 21 miliardi di euro, i 50 erotti della Lombardia, sono risorse dei nostri territori e pensiamo che prima vengano i nostri cittadini. Allora, davanti a questa difficoltà, prima il professor Borghi ricordava i suicidi, noi abbiamo avuto più di 100 persone che si sono suicidate. Davanti a questa difficoltà, noi diciamo che prima vengono i nostri lavoratori e poi quelli del resto del mondo. Noi diciamo che con 200 mila disoccupati in questo momento in Veneto, non riconosciamo un governo che non riconosce, scusatemi il bisticcio di parole, il vero problema. I nostri imprenditori che sono degli autentici eroi, qui noi non abbiamo il problema del confronto con la Germania, con la Baviera, perché sappiamo che la pressione fiscale nelle nostre imprese, nelle nostre famiglie, raggiunge il 68,5% contro il 46% della media europea. Quindi vuol dire che noi per stare sul mercato siamo molto più bravi degli altri e il governo ci risponde creando nuove tasse, il governo ci risponde con i tweet, il governo ci risponde via Facebook, ma siccome l'Italia la manteniamo noi, noi vogliamo chiudere il rubinetto. Allora tutta questa partita noi la vogliamo affrontare con serietà, pensiamo che le condizioni che ci vengono date siano ottimali per far crescere la Lega. Dico però che una riflessione che devo porre è spesso anche prendere atto che spesso il primo nemico della Lega rischia di essere la Lega, che il primo nemico della nostra gente rischia di essere la nostra gente. Cioè qui nessuno ha più alibi, la situazione è servita, le soluzioni ci sono, perché le soluzioni ci sono, avete sentito molti nostri amministratori parlare questa mattina, anche i cittadini non hanno più alibi. E allora cosa stiamo preparando noi, e vado a concludere anche perché mi sembra che dopo tutte queste ore non sia il caso di insistere. Noi stiamo preparando un'offensiva, che è quella che si deve preparare a un governo che non ti dà risposte, che è quella che i nostri cittadini richiedono. Noi abbiamo dimostrato come sappiamo gestire, quando tu vedi che c'hai le code d'attesa davanti agli ospedali, prendi e apri gli ospedali di notte come abbiamo fatto noi, lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica. Quando ti dicono che le tasse sono alte e questo 68,5% diventa strangolante, ti ammazza, noi abbiamo dimostrato che abbiamo tolto l'addizionale IRPEF in regione del Veneto, non si paga l'addizionale IRPEF da 4 anni. Quando tu parli di legalità, dimostri con i tuoi amministratori che questi non sono mai in mezzo ai casini, a me sembra che questo sia il più grande valore che noi abbiamo dimostrato in questo Veneto martoriato dalle inchieste. Però, però, siccome le robe si fanno seriamente, da Roma non arrivano risposte, se non, how are you, it's time to lunch. Allora, io ho mandato ai miei pensatori, perché insomma qualche soluzione c'è, di iniziare il percorso per uno sciopero fiscale, di non pagare più le tasse a Roma. E siccome 21 miliardi di tasse all'anno servono di più a noi che a quei signori, e mi si dice che qualche varco c'è, anche da un punto di vista legislativo, senza far proclami, senza fare annunci che poi non si rispettano, noi stiamo lavorando su questo. Pensiamo che 600 mila imprese, prima debbano pagare i loro lavoratori, prima debbano restare sul mercato e poi debbano dare risposta a qualcun'altra. Chiudo ringraziando tutti i militanti, perché non sono stati quattro anni facili, sono stati quattro anni in salita, ci siamo occupati di una regione, per certi versi, molto sgangherata, abbiamo preso in mano un bilancio della sanità che aveva un passivo da 150-180 milioni all'anno e da quattro anni si chiude in attivo, siamo diventati regioni di riferimento per virtuosità per le partite della sanità, abbiamo voluto fare le riforme, quelle riforme che a Roma non hanno il coraggio di fare. Lasciatemelo ricordare, ho molti consiglieri a iniziare dal capogruppo Caner che sono qui e il merito è loro, perché in Veneto, da quando c'è la Lega, possiamo dire con tranquillità che c'è una nuova legge elettorale che ha tolto la possibilità di avere i candidati blindati dei partiti e i Veneti si voteranno tutti i loro rappresentanti nel 2015. Lasciatemi ricordare che la Lega al governo in Veneto dopo un anno di amministrazione ha avuto il coraggio di ridurre i consiglieri, di bloccare a due il numero dei mandati degli amministratori, perché se si crede che ci deve essere ricambio bisogna anche dimostrare che lo si fa con i fatti, in Veneto dopo due mandati si va a casa. E lasciatemi infine ricordare che i nostri consiglieri con molto coraggio, controcorrente, perché quattro anni fa la situazione non era quella di oggi, hanno voluto dire che quello slogan che io avevo coniato prima il Veneto diventasse in realtà con delle leggi, quindi le case prima i Veneti, i buoni scuola prima i Veneti e tutto quello che è aiuto pubblico prima viene dato ai nostri cittadini. Quindi ringraziamento di cuore ai militanti che ci hanno assistito, che ci seguono, che ci supportano, non è una battaglia facile, perché poi lo sappiamo, quando tu fai opposizione, io l'ho fatta l'opposizione, riesci magari a destreggiarti molto di più con i cittadini, capire, portare avanti delle istanze. Noi siamo quelli che hanno avuto il coraggio di mettere le mani nella macchina e di portarne fuori ottimi risultati. Grazie e buongiorno a tutti.